La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovati, eccoci alla nostra rassegna stampa, partiamo subito con il mattino. Diamo un'occhiata alla prima pagina in apertura, la cronaca, la strage della riapertura, precipita la funivia da Stresa a Mottarone, un bimbo tra i 14 morti, 5 famiglie distrutte, il giallo del cavo tranciato, non ha funzionato il sistema di frenata, 6 mesi fa l'ultima revisione, la cabina esplosa come una bomba. Sotto la testata allo sport, il Napoli rovina tutto, solo pari con il Verona, svanisce all'ultima giornata il sogno della Champions. Centropagina, lite sui licenziamenti, aziende contro Orlando, gli industriali bocciano il nuovo blocco ad agosto, ministero inaffidabile e la replica governo unito. Poi di taglio basso, il ferito a morte di Martone al cinema con il volto di Favino, il film tratto dal capolavoro di La Capria. E questa era la prima pagina. In primo piano sul mattino, la cronaca, precipita la funivia, 14 morti, esplosa come una bomba. C'è del cavo tragedia sul Mottarone, tra le vittime due bimbi di 2,5 anni. L'impianto di aperto sabato, erano quasi arrivati in cima, i testimoni hanno cominciato a retrocedere, dicono, è centrato il pilone. Alle 4 e mezza del pomeriggio un carro funebre con a bordo una bara vuota affronta la salita verso la montagna. Stiamo ancora recuperando i corpi, non è un'operazione facile, riferisce un carabinire del reparto operativo di Verbania. Una comunicazione sintetica e professionale, ma la voce un po' trema. Cinque ore di lavoro non sono bastate, i soccorritori per ricomporre e dare un nome alle 14 vittime. Il volo da un'altezza di 20 metri, lo schianto contro un pilone di cemento e poi la caduta a valle ne hanno fatto scempio. Alcune sono state sbalzate fuori e c'è voluto tempo per rendersene conto. Il disastro del Mottarone Cimappicco sul Lago Maggiore, con un panorama che incanta i turisti, mette a dura prova persino i soccorritori. La cabina era distrutta come se al suo interno fosse esplosa una bomba, racconta Matteo Gasparini del soccorso alpino. 13 turisti sono morti sul colpo, due bambini si sono miracolosamente salvati, ma uno non ce l'ha fatta. E lasciamo questa pagina, rimaniamo ancora sul mattino, andiamo a vedere le divisioni nel governo. Licenziamenti e scontro. L'ira della Confindustria, ministero inaffidabile. Da sud a nord la rivolta degli industriali contro il nuovo blocco. Un colpo basso, respinte le richieste di correzione. Orlando, tutti d'accordo nell'esecutivo. Confindustria e sulle barricate di più da nord a sud gli industriali sono in rivolta. Il presidente di un'industria Calabria, Aldo Ferrara, parla di un colpo basso alle imprese. Angelo Camilli, che guida gli industriali romani, dice che la decisione danneggerà l'economia. Il presidente di FederChimica, Alberto Dal Poz, chiede che il governo apra immediatamente un confronto. Marco Bonometti di Confindustria Lombardia, Enrico Carrano, Piero Ferrari e tanti altri hanno diramato un comunicato congiunto in cui parlano di disorientamento delle imprese. Dunque gli imprenditori, abbiamo visto, ora chiedono che si apra immediatamente un confronto sul lavoro. La norma che estende il divieto fino al 28 agosto sarebbe stata avallata anche dal Tesoro. Andiamo avanti. L'anniversario di Capaci, il Colle, Sferza, i magistrati, Mattarella. Le polemiche minano la lotta alla mafia. Da Palermo il richiamo del presidente. Credibilità e fiducia sono imprescindibili. Fare luce sulle ombre. Il Capo dello Stato invoca ancora il progetto della Cartabbia. A figure di magistrati come Falcone e Borsellino, la società civile guarda con riconoscenza. Vi guarda come lezioni che consentono di nutrire fiducia nella giustizia amministrata in nome del popolo italiano. In direzione contraria, sentimenti di contrapposizione, contese, divisioni, polemiche all'interno della magistratura minano il prestigio e l'autorevolezza dell'ordine giudiziario. La strigliata di Sergio Mattarella, la magistratura al suo CSM è fortissima e avviene nell'aula bunker del Lucciardone ricordando i magistrati uccisi dalla mafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che a suo tempo ebbero non pochi problemi proprio con quel correntismo lottizzatorio che le ultime vicende hanno nuovamente riproposto. Lasciamo questa pagina, rimaniamo ancora sul mattino, vediamo che cosa sta succedendo in Campania per quanto riguarda il virus. Campania verso il bianco, i ricoveri sotto quota mille. Nell'ultima settimana forte calo dei decessi, siamo tornati al livello di ottobre 2020, l'effetto dei vaccini, un campano su tre ha avuto una dose, gran parte sono fragili. Si chiude una buona settimana ricca di dati positivi, belle speranze per la Campania e la lotta al Covid. Dopo più di otto mesi la regione torna al livello immediatamente precedente all'avvento della seconda devastante ondata del virus, quella partita a ottobre esplosa a novembre. Nella settimana appena conclusa, infatti i nuovi casi giornalieri in media sono stati 618, poco più dei 599 del giorno medio della settimana tra il 5 e l'11 ottobre 2020. Inoltre i nuovi malati sono stati per il 40% in meno di quelli della settimana precedente, un sentiero che potrebbe portare alla zona bianca, quella che abolisce tutte le limitazioni, con l'eccezione di distanza e mascherina. Con questo lasciamo il mattino, ci spostiamo sulla città. In apertura, Covid sconfitto dalla festa, la immune dai contagi. Il caos a Salerno per la promozione non fa danni, crollano i casi pure in provincia. Centro pagina, la campagna, turismo in sicurezza in Cilento e Costiera, via alle vaccinazioni. All'Hub di Pellezzano giocano con il pallone, giovani danneggiano il centro di coperchia. Di lato la cronaca da Palinuro, l'addio a Margarita, sentiero sequestrato. Battipaglia, Alba assume operai alla vigilia del voto, a Scafati, l'albero di Falcone piantato in chiesa. Di lato lo sport, Salernitana, cessione del club, lo tito non molla e va dagli avvocati. Passione Granata, i tifosi, i vincenti devono rimanere. Di taglio basso, Salerno, Autogreen, nuove colonnine. Ok al piano per realizzare i totem che serviranno 700 utenti. Passiamo sulla prima pagina di cronache. Il titolo di apertura, Rotondi, appoggia, Sarno e spacca Forza Italia. D'Ambrosio, Tentenna, gli azzurri incapaci di tenere una linea unica centrodestra nel caos totale. I consiglieri di oltre attendono la risposta di Francesco Saverio. E il sindaco Napoli se la gode. Centro pagina, Cascone, messa in sicurezza di viadotti e gallerie per l'agronocerino va ripreso il discorso sulla stazione Vesuvio. Il presidente della quarta commissione fa un bilancio delle attività svolte e parla del futuro. Di lato, il fatto, parcheggio a raso, a Canalone, via agli studi e alle modifiche. Poi a Palinuro la tragedia. Palloncini bianchi per la piccola Margarita, la procura di Vallo sequestra tutto. Centro pagina, lettera che sa da Dio, Tutino scrive un post di saluti. Di taglio basso, a Baronissi, Valiante, lavoriamo ogni giorno per una dimensione di Smart City. Il personaggio, Miriam, campionessa sul ring che punta alle Olimpiadi. E il tiro con l'arco, Vincenzo D'Aiuto, serve un sostegno, dice, per poter andare avanti. E termina qui la prima parte della nostra rassegna stampa. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Ed eccoci tornati in studio, riprendiamo l'arassegna stampa. Andiamo sulla prima pagina del mattino di Salerno. In apertura, Movida, sfregio, rifiuti, centro storico sommerso dalla spazzatura, i residenti incivili impuniti, scarti di cibo, bottiglie ovunque, urina e droga sulle chiese, fontana ridotta, discarica. Poi la task force, weekend blindato, 8.000 controlli, 55 multe per mascherine e coprifuoco dopo le risse tra giovanissimi. Di lato la salernitana, cessione in campo, il team di avvocati, si lavora a mezzaroma socio di minoranza, mentre si pianifica la gestione ordinaria. Poi l'intervista a Giovanni Vitale, strage del treno da Piacenza, voglio la verità, chissà parli. Andiamo sul centro pagina. La tragedia di Palinuro, Margarita sarà cremata, sentieri più sicurezza. La pandemia, vaccini, le scorte sono all'omicino, subito rinforzi. 30.000 salernitani inoculati in due giorni, contagi calano ancora, una vittima a Fisciano. Questa era la prima pagina del mattino di Salerno. Andiamo a vedere in primo piano la tragedia di Palinuro. Margarita, il volo mortale, il procuratore Ricci, sentieri più sicurezza. Il magistrato ricorda la fine di Simone, è il secondo incidente in montagna. Palloncini bianchi per la bimba tedesca, annegata dopo essere caduta dal dirupo. Sarà cremato il corpo della piccola Margarita. La volontà della famiglia è quella di disperdere le ceneri su una delle vette del Cilento. Oggi presenteranno istanza alla procura di Vallo della Lucania per avere tutte le autorizzazioni, ma la risposta per leggi potrebbe essere negativa. In attesa, la salma della bimba di 5 anni resta nella sala mortuaria dell'ospedale San Luca. Una tragedia immane, andiamo avanti con le indagini, ma non ci sono parole per l'immenso dolore che ha colpito questa famiglia. Il procuratore Antonio Ricci da due giorni fa ha un fascicolo aperto. Da parte sua la procura di Vallo andrà fino in fondo per accertare eventuali responsabilità sulla morte della piccola Margarita. Rimaniamo ancora sul mattino e parliamo di pandemia. Baccini, scorte al lumicino. 30.000 dosi nel weekend. L'Asla aspetta rifornimenti immediati per poter proseguire nell'immunizzazione. Contagi in calo. Ieri 98 nuovi positivi, ma a Fisciano si registra un'altra vittima. A Pellezzano giocano a calcio e devastano l'hub per il siero. Pallonate contro le vetrate, poi il blitz. All'interno i giovani ripresi dalle telecamere. Lasciamo il mattino. Ci spostiamo su cronache. In primo piano le amministrative. L'Avvocato D'Ambrosio non ha sciolto la riserva. Tweet di Rotondi. Spacca Forza Italia. Scelto dai consiglieri del gruppo. Oltre il legale non ha ancora deciso se candidarsi alla carica di sindaco. Il vice capogruppo di Forza Italia sostiene la candidatura dell'Avvocato. Michele Sarno. Verdi in attesa. Il Movimento 5 Stelle sembra ormai sparito dalle scene. Forza Italia, abbiamo visto, si spacca ancora polemiche in casa Forza Italia. In attesa dell'incontro in programma questa sera tra i vertici nazionali. per trovare una sintesi sui grandi comuni al voto, per poi decidere anche sui capoluoghi di provincia e nei piccoli comuni. È un tweet di Gianfranco Rotondi, vice capogruppo di Forza Italia alla Camera, a far sorcere il naso a più di un forzista. Che cosa scrive? Sono felice di sostenere finalmente l'Avvocato Michele Sarno in una battaglia che orienti la sua inesauribile e disinteressata passione politica verso un riscatto civile della bellissima città di Salerno a cui mi legano tanti affetti e ricordi. Ha scritto l'Onorevole Rotondi. Poche parole che hanno provocato un bel po' di malumore, soprattutto tra gli azzurri che non sembrano assolutamente intenzionati a sostenere l'Avvocato Sarno. E' in attesa di decisioni da parte dei vertici nazionali che in queste settimane si stanno incontrando, invocando l'unità del centrodestra nei grandi comuni al voto. Andiamo avanti. Anche qui su Crona che la tragedia di Palinuro indaga la procura di Vallo della Lucania sotto sequestro il sentiero dei Fortini. La piccola Margarita ha perso la vita dopo essere precipitata dallo strapiombo. La morte è avvenuta per annegamento. La comunità di Centola ieri ha salutato la bimba di quattro anni con palloncini bianchi. La tragedia sabato verso ora di pranzo. Subito dopo l'incidente, insieme agli altri quattro figli, la coppia di turisti tedeschi è tornata indietro sul porto e si è rivolta all'Infopoint, chiedendo soccorso e poi al titolare di uno stabilimento, dove erano stati tutti insieme il giorno prima per una giornata di mare ed un'escursione in barca. Sono stati i militari della Guardia Costiere insieme ad uno degli addetti a Lido, che nel frattempo a bordo del gommone si era diretto verso il punto in cui è caduta la piccola, a recuperare il corpo senza vita di Margarita, che viene portato al porto prima di dirigersi verso l'ospedale di Vallo della Lucania. Gli uomini del comandante del re non hanno dubbi sulla dinamica. La piccola si è allontanata dalla sua famiglia, correndo avanti e indietro su quel sentiero. Sarebbe arrivata sul promontorio che sporge sulla costa, quasi sopra la grotta azzurra e lì probabilmente scivolata. Il magistrato di turno ora sta valutando eventuali responsabilità, sia da parte della famiglia, sia in relazione, sia relative al modo in cui è tenuto quel sentiero. Dubbi che verranno sciolti soltanto nei prossimi giorni dopo una serie di perizie tecniche e di sopralluoghi. Nel Cilento il connubio cilentano Antonio Baratta sul podio per il miglior gelato. La sua creazione arriva al terzo posto nel concorso nazionale dedicato alla mandorla di Toritto. Il gelataio agropolese si è ispirato ai profumi e ai sapori del Cilento per produrre il nuovo gusto che ha convinto la giuria del Contest. L'abbinamento vincente, creato con limone, fichi d'India e nocciole di giffoni. A Tortorella, presentato il portale del borgo, la cittadina apre le porte al primo weekend dedicato al benessere. E con questo termina la nostra rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi. Vi auguro buona giornata.